Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei come potete vedere con i vostri occhi ci troviamo su Skyrim con un video che andrà a racchiudere quelle che secondo me sono le 5 migliori case, migliori abitazioni per quanto riguarda l'Universal Edition, quindi i contenuti presenti sul Creation Club Nel video di oggi quindi andremo a vedere questa classifica in cui cercherò di dare un voto alla location quindi il luogo in cui si troverà la casa, ai servizi che ha da offrire e per quanto riguarda gli interni sono molto curioso di sapere anche la vostra classifica con i voti quindi mi raccomando lasciate un like e scrivetelo nei commenti partiamo dalla posizione numero 5, ci troviamo a Riften all'interno delle fogne nel Rathway stiamo parlando del santuario di Shadowfoot per quanto riguarda la posizione di questa casa a me non piace per nulla il fatto di dover ogni volta andare nelle fogne è alquanto scomodo il rientrare e uscire potete ben capire quanto può risultare non troppo immediato questa casa c'entra perfettamente la tipologia di casa che sta rappresentando in questo caso la dimora di un ladro, di un assassino e per questo l'apprezzo moltissimo dietro questo armadio avremo la possibilità di trovare il tavolo dell'incantamento il tavolo dell'alchimia e in più tutto quello che riguarda la possibilità di andare a esporre tutti i nostri oggetti la votazione che do a Shadowfoot è Location 2, Servizio 2 e Interni 4 premio il fatto che ci sia la stanza segreta passiamo alla casa in posizione numero 4 stiamo parlando di Myrwatch dimora che si trova vicino Mortal per quanto riguarda la location anche qui sicuramente più comoda rispetto alla casa di prima ma il fatto che siamo in mezzo alle palude e alla nebbia non mi soddisfa più di tanto per quanto riguarda gli interni è la classica casa di un mago non mi dispiace, i servizi li abbiamo tutti, ho premiato il fatto che è un qualcosa che le altre case non hanno e stiamo parlando del tavolo per incantare i bastoni magici per quanto riguarda le votazioni diamo alla Location 3, Servizio 3 e gli Interni 3 in posizione numero 3 abbiamo una delle mie case preferite stiamo parlando della Tenuta nella Tundra questa casa nella Location penso migliore vicino a Whitetan ha molti servizi all'esterno abbiamo anche il campo per coltivare, la casa delle api l'unica pecca forse sono gli interni molto dettagliati ma lo spazio è veramente piccolo è tutto appiccicato abbiamo il minimo indispensabile proprio non manca assolutamente un tavolo per incantare per andare a creare pozioni ci sta questa chicca, questa piccola cosa in più di questa botola che ci porta nella stanza in cui poter andare a esporre tutte le nostre armature la votazione per quanto riguarda la Tenuta nella Tundra diamo alla Location 5, Servizi 4 e Interni 2 per quanto riguarda la casa in posizione numero 2 abbiamo Endraheim, non so neanche se si pronuncia in questo modo ancora non l'ho capito bellissima dimora mi è piaciuta tantissimo la prima volta che l'ho vista posizione non proprio al massimo ma sicuramente molto buona gli interni ragazzi secondo me i migliori questo open space è straordinario abbiamo tutto quello che ci serve dal tavolo dell'incantamento al tavolo alchemico una stanza più che altro una parete dedicata completamente al nostro armamentario nel nostro guiaggiamento un'unica stanza dove ci sono i nostri letti e tutto quello che ci serve come piccoli cassetti addirittura una cassaforte e poi nel piano sotterraneo abbiamo un'altra stanza dove mettere tutti i nostri oggetti la votazione per quanto riguarda Endraheim diamo alla Location 4 ai Servizi 3 e agli Interni 5 è in posizione numero 1 amici miei non poteva non essere che la piantagione colline dorate questa fattoria che abbiamo visto nei video precedenti non ha rivali ha praticamente tutto ha sicuramente molte più cose l'unica pecca sono gli interni ha sempre tutto ci stanno i vari tavoli di incantamento e di pozioni qualche dettaglio particolare ma sicuramente il punto forte rimane la possibilità di avere un orto gli animali e tutto quello che riguarda anche la bellezza del panorama votazione assolutamente Location 5 Servizi 5 e Interni 4 questa amici miei è stata la mia classifica personale per quanto riguarda le case del Creation Club di Skyrim Anniversary Edition sono veramente curioso di come vi ho detto prima di sapere la vostra classifica con i punteggi a Location Servizi e Interni io come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo ad un prossimo video ciao